Si chiariscono i contorni del commissariamento di Coldiretti Cremona. Giovanni Benedetti, capo area organizzazione della Confederazione e direttore regionale, è già arrivato in Via Verdi dove sono stati azzerati i vertici. Via anche il direttore Paola Bono, nei prossimi giorni arriverà il sostituto. La decisione è stata presa martedì scorso, pochi giorni dopo la conferma di fatto dei vertici del Consorzio Agrario, nei confronti dei quali era stato chiesto un cambiamento. Ma il 2 maggio scorso era stato confermato alla presidenza del Consorzio Gian Enrico Spoldi. La sua lista in rappresentanza di Coldiretti aveva vinto ottenendo 1488 voti, circa il doppio dei voti ottenuti dalla lista della Libera Associazione Agricoltori. La conferma arriva dallo stesso commissario. Si è deciso di commissariare la Coldiretti di Cremona su iniziativa della Federazione Regionale Coldiretti della Lombardia perché si era condiviso con i dirigenti di Coldiretti di Cremona di dare un cambio per quanto riguarda il rinnovole e carica del Consorzio Agrario di Cremona, chiedendo come Federazione Regionale, anche a livello nazionale, in un incontro che è stato fatto, la presenza di tutti i dirigenti sia di Cremona, sia regionale, sia nazionale, di dare un senso di cambiamento rispetto a tutte le vicende che sono accadute. Eravamo chiesto di cambiare i componenti del collegio sindacale in questo incontro, eravamo tutti d'accordo e poi alla fine Coldiretti di Cremona ha deciso di non cambiare e di proseguire per, diciamo, la continuità. Coldiretti regionale si sarebbe accontentata anche solo di un cambiamento del collegio sindacale, invece anche quello era stato confermato, guidato da Andrea Bignami. Il commissario avrà il compito di traghettare l'associazione agricola verso nuove elezioni, individuando i nuovi vertici. L'obiettivo di essere trasparenti rispetto a tutto quello che accade, perché come Coldiretti vogliamo assolutamente essere trasparenti rispetto a tutte le vicende e noi avevamo segnalato che ci potrebbero essere anche delle piccole e grandi questioni da verificare, quindi ci siamo sentiti in dovere di intervenire commissariando la federazione di Cremona. Quanto andrà avanti il suo incarico? Non si può dire, non c'è una durata, mi auguro ovviamente il più breve tempo possibile. Che cosa vuol dire per rassicurare i vostri associati? Per rassicurare i nostri associati posso assolutamente dire che tutto andrà avanti dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista di quello che stiamo facendo e che cercheremo dal punto di vista politico, organizzativo, di rappresentare al meglio la Coldiretti di Cremona perché se lo merita. Coldiretti avrebbe intenzione di incorporare il Consorzio Agrario Provinciale nel CAI, Consorzi Agrari d'Italia. Lei conferma questo progetto? No, non è assolutamente vero e anche posso tranquillamente smentire perché nell'incontro fatto quel giorno a Roma il Presidente Nazionale, il nostro Brandini, ha espressamente escluso che ci sia questa necessità, possibilità o voglia di parte di Coldiretti. Il Consorzio Agrario di Cremona è libero di fare quello che ritiene più opportuno. Ecco, nonostante le recenti vicende si può dire che comunque fino a questo momento la Coldiretti sia stata comunque gestita nel migliore dei modi? Dal punto di vista dei servizi organizzativo assolutamente sì, dal punto di vista politico ovviamente non ci siamo trovati in linea con le scelte dell'organizzazione a livello territoriale.